Sulla ricostruzione si giocherà nell'immediato futuro una partita decisiva per la sicurezza e lo sviluppo di Pratole ed è per questo che è necessario recuperare il tempo perso e proporre una nuova governance in un settore così delicato. Le nostre proposte riguardano il potenziamento dell'ufficio tecnico e la valorizzazione delle sinergie tra l'amministrazione comunale, la struttura delicata, i professionisti dell'ufficio territoriale della ricostruzione di Coriano, che è stato colpevolmente dimenticato nei mesi scorsi da chi avrebbe dovuto attivarsi in tempo per garantire le risorse indispensabili a suo funzionamento. I dati sulla ricostruzione e la messa in sicurezza certificano il ritardo di Pratole rispetto all'esperienza dei paesi vicini, con effetti sulle imprese, l'economia, la sicurezza dei cittadini. Bisogna dare la svolta, l'ha affermato ieri a gran voce la candidata sindaco di Pratole a bellissima, Antonella Di Nino, nel comizio in un'affollatissima piazza a Madonna della Neve. Rivolgendosi ai cittadini di Pratole, Antonella Di Nino ha sottolineato nuovamente l'importanza delle cooperative di comunità come strumento per garantire servizi e assistenza e per favorire l'occupazione locale, mentre è toccato ai candidati consiglieri Flavio Pace, Chiara Cavallaro, Marianna Palombizio illustrare i punti relativi alla sicurezza, all'arredo urbano e alla vicinanza del comune alle persone che vivono determinate situazioni di disagio. Domani intanto la candidata sindaco e i consiglieri di Pratole a bellissima terranno alle 21.30 nuovo comizio a Valle Madonna.